L'RS GP21 secondo me era una delle moto più belle, ma credo che la GP22 sia decisamente la più bella in griglia, anche se non ho ancora visto le altre. La volete vedere? Grande adrenalina, voglia di vedere dove siamo, voglia di capire quanto siamo migliorati su noi stessi e voglia di vedere dove siamo rispetto agli altri. Sappiamo che abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo preso qualche rischio nello sviluppo di questa moto, ma non vediamo l'ora di essere in pista. Abbiamo tre piloti diversi tra loro, consigli differenti ma molto ben integrati tra di loro, questo è molto bello. Aprilia del 2022 entra come Factory Team, 30 anni dal primo mondiale vinto da Alex Gramigni, è una data importante, Aprilia annuale, è un ambiente non voglio dire familiare ma a misura d'uomo, fatto di grandi professionisti italiani, ci teniamo molto la nostra italianità. Grazie per la visione! Grazie a tutti